Signore e signori, ecco a voi. Rosa Comi. E mi ecco me ne spidi me diolamme, e cia ecco ne ne spidi moccannizzo, c'è molte vrechi e inghizi na nissone ombrello, c'è sottospidi, c'è ombrello e perni malasorta. I libri ci pupato cannizzo, ecco ne usimi su clammenu, c'è neocne mia maia nu forasone c'inordio, e mi ecco me ne attraino monampari, c'è pure una sciddo rizzari, e ste me guardo me na segrea. A cittocca macio, c'è un bello se n'amai, ti ciuriaci, er che ve ci si matto spidi ma, mo mai aspro, si domeno se sugo, na modifica efe pasta, e n'vo e n'imeno a popito na minnoiso. C'è affeime c'io, e vaggio na manifesto se visito, c'è segleo se pesammeni. La camisa bianca anziggata di sugo, a verta, ti faccio co te piglia lo freddo, se ti vicio caparli in agraffiata co due camascio. Quindi non è da scarpa pettie, e cadene pure una sola scialcata. Noi venimo a casa co due stanze, quindi tengono nuca rotto e nuca nizzo, che quando giove tocca cuapare nell'ombrello intra casa, e l'ombrello porta mala fortuna. Gli limbici da su su lo canizzo, sono tumenti stoccati, e non tengono una maglia co l'incattano i nuovi. Noi tenimo lo traino co lo cavaggio, e pure lo cane rizzaro, e stavo pinchiati da carne. A Ducamaccio, che ti minavo l'occhio, la domina che viene annanzi a casa noscia, con la camisa anziggata di sugo. Come a moscia che mangia o pasta, ma io non sono tu un popito, che non lo capisco. E se va a fuci, mi intu lo manifesto del lutto, e te chiamo di morta. Grazie. 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 Grazie a tutti. Maestro fisarmonicista Cristian Calò. E poi facciamo alzare questa bellissima signora, un applauso fortissimo a Rosa Comi. Grazie. Spiego brevemente qualcosa di molto importante. Io sono Carmen Greco, vengo da Castrignano dei Greci, paese della Grecia. Abbiamo cantato in grigo e in dialetto, la strada era già spianata. Lei è Rosaconi, fa parte sempre della Grecia perché di Castrignano come me. ha scritto un libro che si chiama Licunti di Rosa Comi dove scrive un sacco di racconti dialettali, tutto in dialetto. Stasera Rosa non voleva venire, l'ho dovuta tirare su con la forza perché dice lei, per la sua condizione dice lei, per i suoi capelli dice lei. Ma io l'ho voluta qui stasera perché lei ci dà un messaggio potente, potente, di rinascita e di speranza per tutti. Lei ha 77 anni suonati e continua, continua a rinascere ogni giorno. Volevo lei sul palco per dare un messaggio a tutti voi, a tutte le persone che si trovano in mezzo alla tempesta. Guardate Rosa e continuate a vivere. Un applauso fortissimo. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale e grazie ancora, grazie ancora a tutti voi. Andiamo Rosa. Vuoi ringraziare in grigo? Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti